buonasera a tutti e oggi affrontiamo un argomento diciamo l'ultimo relativo al tema dei grafi e in particolare parliamo di cicli l'abbiamo lasciato un pochino come argomento di coda perché fosse un pochino meno indispensabile rispetto agli altri per la tipologia diversità che facciamo perché come vedremo alcuni problemi si risolvono in modo molto facile quasi banale altri invece sono intrattabili e quindi di fatto si passerà poi soluzioni ricorsive costruite ad hoc ma andiamo andiamo per gradi sostanzialmente cominciamo a vedere di cosa stiamo parlando vogliamo analizzare dei grafi cercando dei cicli che abbiano certe proprietà particolari noi giusto per richiamare rapidamente cosa si intende con ciclo il ciclo di un grafo è un sotto insieme degli archi parliamo sotto insieme degli archi così contemporaneamente teniamo conto anche i grafi i multigrafi dove ci sono più archi che tratta la stessa coppia di vertici quindi dare semplicemente l'elenco di vertici non è sufficiente a identificare in modo univoco qual è il percorso che stiamo facendo di fatto un ciclo è un percorso chiuso in cui il primo nodo del cammino sia uguale all'ultimo nodo del cammino quindi di fatto un tipo particolare di cammino questo l'avevamo già definito ci sono due cicli di tipo particolare che hanno diciamo così avuto un nome sono stati battezzati un ciclo cosiddetto hamiltoniano è un ciclo c'è un cammino chiuso che tocca tutti i vertici di un grafo esattamente una volta quindi qui ci sono degli esempi di grafi completi se non sbaglio e ci sono disegnati in rosso alcuni esempi di cammini hamiltoniani questi in rosso sono esempi di cammini che come vediamo toccano tutti i vertici li toccano una volta sola quindi non passano mai due volte dallo stesso vertice e e ritornano il punto di partenza da cui erano partiti essenzialmente in un generico grafo non è detto che un cammino sul fatto che abbia questa proprietà cioè di essere chiuso e di passare una volta per ogni vertice e possa esistere a volte si può c'è anche più sempli più semplificata di cammino all'intonia anziché ciclo dove rilasso il vincolo di tornare al punto di partenza però abbastanza diciamo così meno utilizzata come con questo tipo di formulazione qui abbiamo detto non è detto che esista un cammino lintoniano vedremo come farà cercare un altro tipo di cammino invece un cammino euleriano l'avevamo già citato sulla prima lezione dei grafi perché era colui che aveva cominciato a studiare dal punto di vista formale e quindi un cammino euleriano un cammino che attraversa un grafo qui ritornando il punto di partenza toccando ciascun arco non ciascun vertice ciascun arco questa volta esattamente una volta sola quindi può essere un cammino aperto che usa tutti gli archi del grafo e arriva in un punto d'arrivo che potrebbe essere uguale o diverso da quello di partenza oppure un ciclo propriamente detto in cui oltre a toccare tutti gli archi torna al punto di partenza e questo è essenzialmente il problema dei ponti di Konigsberg che era quello che ha fatto poi nascere la teoria dei grafi è esattamente una formulazione di questo tipo e il teorema che è stato diciamo come uno stato dei primi teoremi che è stato dimostrato dai grafi ci dice che un grafo connesso allora innanzitutto se un grafo non è connesso ovviamente non ha un non posso raggiungere tutti i vertici perché ci sono alcuni vertici che non sono raggiungibili e basta un grafo connesso possiede un ciclo euleriano se e solo se una condizione stranissima ma semplicissima tutti i vertici hanno un grado pari e se esistono dei vertici che hanno un grado dispari ma questi vertici sono al massimo due allora il grafo potrà contenere un cammino euleriano ma non un ciclo euleriano cioè riesco a toccare tutti gli archi ma non ritorno al punto di partenza vedremo il perché di questa strana ipotesi che ci garantisce l'esistenza di un ciclo euleriano quando avremo un algoritmo che è in grado di risolverlo da cui si capisce chiaramente perché ci serve questa ipotesi tra l'altro questo teorema ci permette di fare un controllo locale sul grafo cioè andando vertice per vertice senza fare cose complicate e ci permette di dimostrare che il problema dei ponti di Königsberg non è risolubile perché questo vertice qui ha il grado 3 punto anche questo ha il grado 3 per carità anche questo ha il grado 3 questo anche ha il grado 5 quindi siamo nel caso più sfortunato di tutti in cui tutti i vertici hanno un grado dispari mentre in realtà dovrebbero avere tutti i grado pari per poter essere per poter permettere la costruzione di un ciclo euleriano questi due tipi di cicli chiaramente danno origine a varie tipologie di problemi o sottoproblemi dal punto di vista algoritmico e che ovviamente prendono forma diversa a seconda che il grafo sottostante sia un grafo pesato o sia un grafo non pesato se il grafo è non pesato il problema diventa semplicemente quello di chiedersi se esiste un ciclo hamiltoniano se vogliamo trovare tutti i vertici oppure euleriano se vogliamo toccare tutti gli archi non si pone il problema di trovare il più lungo e il più corto perché per definizione un ciclo hamiltoniano ha un numero di segmenti che ha una lunghezza esattamente pari al numero di vertici e un ciclo euleriano ha una lunghezza che è esattamente pari al numero di archi quindi la lunghezza è fissa però può darsi che nel grafo esista un ciclo che abbia quella proprietà oppure che non esista se esiste potremmo essere interessante trovarlo oppure trovarli tutti ovviamente dipende dal tipo di problema che stiamo cercando di risolvere se il grafo invece è un grafo pesato il problema si fa più interessante innanzitutto rimane sempre il problema di chiedersi se esiste un ciclo hamiltoniano ad esempio troviamo però molto spesso che i grafi pesati tante volte sono grafi completi cioè immaginiamo una cartina geografica in cui le città sono tutte collegate tra di loro in qualche modo quindi molto spesso è possibile trovare un ciclo quindi il problema non è tanto quello di trovarlo il problema è che ne hai così tanti che poi devi trovare quello migliore e visto che gli archi non sono intercambiabili perché sono pesati allora devi trovare qual è il ciclo hamiltoniano di peso minimo posto che esista ovviamente quindi devi verificare che esista e poi devi trovare quello di peso minimo oppure trovarne almeno uno se ti accontenti ma ovviamente se il grafo è pesato vogliamo tenere in conto anche dei pesi quindi sono ovviamente per questi vari sottoproblemi l'esistenza del ciclo hamiltoniano l'esistenza di un ciclo euleriano e la minimizzazione del peso di un ciclo euleriano o hamiltoniano e la ricerca del ciclo quindi l'esplicitazione e sono tutti problemi diversi dal punto di vista algoritmico e quindi cominciamo a vedere quali sono gli algoritmi partiamo dagli algoritmi per il dall'algoritmo lo uso il singolare perché in realtà questo basta e avanza perché risolve molto efficacemente il problema questo è l'algoritmo per cercare i cicli euleriani qui non abbiamo il problema di dire se un ciclo euleriano esiste o no c'è il teorema che ce lo dice ci dice guarda vai a vedere gli archi no scusate vai a vedere i vertici vai a vedere il grado di ciascun vertice se questi gradi sono tutti numeri pari numeri interi pari allora esiste punto questa è la classica cosa matematica per cui alla fine ti dice che una certa cosa esiste ma non ti dice qual è però ti dice che matematicamente deve esistere se invece c'è almeno uno dei vertici che ha grado dispari oppure sono almeno tre i vertici che non hanno grado dispari allora o non esiste un ciclo ma esiste un cammino se sono uno o due i gridi dispari oppure se sono da tre in poi i dispari non esiste neanche un cammino neanche un cammino aperto che non torna il punto di partenza quindi sapendo che esiste quindi ci mettiamo ovviamente nella condizione di un grafo che sia euleriano quindi che abbia questa proprietà di vertici di grado pari chiediamoci come fare a trovare almeno un cammino euleriano allora questo algoritmo di questo hierzholzer o probabilmente si pronuncia in un modo diverso dice così scegli un vertice a caso uno qualunque v e comincia da v a muoverti a caso come vuoi sono su v scelgo un arco avrò degli archi uscenti ne scelgo uno mi arrivo su un altro vertice avrò degli archi uscenti scelgo uno e così via ovviamente devono scegliere archi che non ho ancora usato perché gli archi li devo usare tutti una sola volta quindi crea un cammino fatto di tanti archi ovviamente sarà possibile qui stiamo parlando di un ciclo euleriano ritornare sullo stesso vertice pur di uscire con un arco diverso sono gli archi che stiamo usando che stiamo colorando man mano che andiamo avanti e quindi senza nessun criterio particolare parto da un vertice e vado avanti cosa può capitare? può capitare che ritorni al vertice di partenza oppure che continui ad andare avanti sono le uniche due cose che possono capitare cioè quando sono in un certo passo o ritorno in V oppure vado verso un vertice nuovo non può mai capitare e questo è diciamo l'intelligenza dell'algoritmo e anche del teorema non può mai capitare che io arrivato in un vertice non possa più uscire rimanga bloccato lì perché non può mai capitare ma perché il grado è pari quindi quel vertice lì avrà due archi e se quel vertice ha due archi ne uso uno per entrare e uno per uscire se il vertice ha quattro archi ne userò uno per entrare e uno per uscire e poi più tardi ci rientro e ci riesco però è solo nel caso in cui i vertici fossero dispari 3 entro riesco e poi se per caso ci dovessi rientrare rimango bloccato lì perché non ho più archi liberi da poter utilizzare per uscire ok quindi il fatto che il grado dei vertici sia sempre pari mi garantisce che in un percorso casuale non rimango mai bloccato in un vertice e posso sempre cioè se sono riuscito a entrare in quel vertice vuol dire che riesco anche ad uscirne se ho già esaurito tutti gli archi in quel vertice semplicemente non ci entrerò più perché tutti gli archi che portano lui sono già stati usati ma non esiste mai il caso in cui ci sia un vertice in cui si è stato usato un arco si è rimasto disponibile solamente un arco per entrarci e poi rimango bloccato lì perché non c'è quello per uscire non esiste tranne un caso il vertice da cui sono partito nel vertice da cui sono partito ovviamente ho usato un arco quindi se lui ne aveva in numero pari supponiamo due è rimasto solo un altro arco e quindi se per caso nel mio girovagare casuale senza alcun criterio sono tornato in V uso il secondo arco e da lì non mi muovo più quindi ho fatto un giro a caso ho usato un po' di archi e mi sono fermato quando il mio girovagare casuale mi è riportato in V allora che cosa ho ottenuto? ho ottenuto un ciclo chiuso perché sono partito da V e sono tornato in V da cui però mi devo fermare adesso ci sono due casi o in questo ciclo sono stato così fortunato che ho già usato tutti gli archi e allora ho finito ho risolto il problema con pura fortuna oppure ho un ciclo chiuso che tocca un certo numero di vertici uso un certo numero di archi ma non li usa tutti e allora a questo punto c'è il secondo passaggio se esistono ancora archi che non ho usato allora scelgo uno di questi archi che sia adiacente a uno dei vertici che ho già usato quindi nel mio ciclo che ho fatto scelgo un punto dico guarda guarda questo vertice qui aveva quattro archi ne ho usati due perché sono entrato e sono uscito e gli altri due non li ho usati scelgo uno o qualsiasi di questi vertici che abbia questa proprietà cioè ho ancora archi non usati e da lì riparto ripeto esattamente lo stesso algoritmo di prima facendo a questo punto un altro ciclo e quindi avrò avuto il ciclo iniziale che partiva da V e poi farò un altro ciclo partendo da un nuovo V con le stesse identiche regole ovviamente cercando di non riusare gli archi di prima ma prima poiché i vertici avevano un grado pari e io per ogni vertice nel giro prima ho usato un numero pari di archi per ciascun vertice il grafo che è rimasto quindi gli archi rimasti sono ancora il numero pari per ogni vertice e quindi vale lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima e quindi partirò da un vertice giro 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 o finché vado avanti bene quando torno nel punto di partenza avrò ottenuto un secondo circuito chiuso a questo punto mi chiedono di nuovo gli archi sono finiti sì o no e se non sono finiti riparto di nuovo e così via questo è lo stesso concetto scritto sotto forma diciamo così un pochino più di passaggi di pseudocodice di vari passaggi ma noi lo analizziamo dal punto di vista grafico allora prendiamo questo grafo che sembra un pochino un traliccio un traliccio della della corrente elettrica no e ipotizziamo di partire dal vertice e così perché non ho nessuna regola mi piaceva la letteraria sono partito dal vertice e non c'è bisogno di partire da nessuna fare nessun regolamento particolare innanzitutto verifichiamo che questo sia un grafo euleriano sia perché questo è a grado 2 questo è a grado 2 grado 4 1 2 3 4 grado 4 grado 1 2 3 4 5 6 grado 2 grado 2 grado 6 grado 2 grado 2 sono tutti numeri pari quindi un ciclo euleriano esisterà di sicuro dicevamo parto da E e vado in giro scelgo da E a quanti archi ho a disposizione 1 2 3 4 5 6 scelgo quello che va in G così non c'è una regola sono in G a questo punto sono obbligato a scegliere quell'arco che va verso H perché G è verso due archi uno l'ho usato per entrare e l'altro l'ho usato per uscire poi da H dove vado? posso andare verso D verso C verso F verso I o verso J così decido di andare verso J e da J sono obbligato a tornare su E ecco vedete che ho giro agovagato a caso ho fatto delle scelte casuali e poi mi sono ritrovato per caso al punto di partenza questo è un ciclo chiuso ciclo chiuso che non è completo però non prende tutti gli archi allora vado a scegliere su questo ciclo chiuso un vertice che abbia ancora degli archi liberi i vertici che hanno ancora degli archi liberi qua sono E oppure H scegliamo H H è qui e parto parto andando verso D ad esempio verso D e poi qui scelgo di andare verso C e poi scelgo di andare verso H questa volta ho fatto delle scelte che mi hanno portato al punto di partenza un po' prima un po' rapidamente ma va bene allora cosa faccio di questo cammino chiuso lo collego a quello di prima prima avevo un cammino chiuso poi ho trovato un altro cammino chiuso devo fonderli insieme in modo da avere un unico cammino chiuso quindi avete un anello di qua un anello di là li apro e li collego e così avrò un solo cammino che include tutti gli archi dell'uno e dell'altro ok quindi vedete che prima avevo un cammino che era indicato qua E G H J E adesso a E G H J E aggiungo visto che H era il punto di partenza e di arrivo del secondo cammino lo inserisco in quel punto e quindi non faccio H J ma H quindi E G H su H faccio il giro e poi ricomincio J E quindi inserisco al posto delle vertici che ho identificato questo H qui da cui partire inserisco tutto il ciclo che ottengo partendo appunto da questo H e poi ripeto la stessa cosa scelgo uno dei vertici qualunque quali vertici posso scegliere beh C D ancora E ancora H e basta I non lo posso scegliere come vertice di partenza perché devo partire per poter poi fare questa operazione di unione da un vertice che stia già sulla parte di ciclo che ho già trovato va bene a questo punto potrei riscegliere di nuovo H scegliendo di nuovo H mi porta a fare vediamo qua cosa ha trovato F I H quindi H F E poi da E ha scelto di andare in I e poi di in I in H ah scuola ti aprì una figura di destra per se era più chiaro H D B A C poi vado in E allora E ce l'ho già passato prima ma non mi importa perché in questo giro qua il punto di partenza era H e quindi E G H no scusate E siamo qua H B A C E D E D D eccolo qua e torno da H passando tra D adesso qua avendolo già disegnato e non disegnato ci si fa un po' di confusione ma la cosa carina è che voi potete andare nell'ordine che volete l'importante è che sappiate che partiamo un altro giro da H e allora andate a inserire dove prima c'era H l'intero percorso e questo fa sì che alla fine il cammino numero 4 sia composto da tutti gli archi del grafo e quindi sia un cammino euleriano che è molto intrecciato ovviamente ma tocca usa sicuramente tutti i vertici ovviamente toccherà ciascun vertice un numero di volte pari alla metà del suo grado quindi A viene attraversato una volta sola C viene attraversato due volte E viene attraversato tre volte e lo vedete che 1 2 e 3 e poi e poi viene attraversato il punto di partenza quindi viene recitato in fondo H viene toccato tre volte perché va a grado 6 1 2 e 3 e quindi alla fine non riesco più a distinguere ovviamente da dove ero partito o quali sono stati i cicli che ho innestato perché tutto è diventato un ciclo unico quindi questo è molto semplice l'algoritmo è molto semplice da implementare appunto perché semplicemente si tratta di partire da un vertice andare in giro se trovo il vertice di partenza salvo questo percorso scelgo un altro vertice e riparto la complessità la possiamo immaginare che è esattamente pari al numero di archi perché ogni volta che faccio un passo nell'algoritmo ho aggiunto un nuovo arco e questo qui sarà esattamente usato una volta sola e quindi il numero di iterazioni che farò è esattamente pari al numero di archi allora ci possiamo immaginare che ovviamente nella nostra libreria JGrafty ci sia già una classe che sia in grado di trovare facilmente un ciclo euleriano all'interno di un grafo di questo genere questo è essenzialmente la ricerca del ciclo ragiona su grafi che non siano pesati nel senso che trovo un ciclo a caso senza considerare il peso qui non stiamo considerando non stiamo cercando di minimizzare la lunghezza del ciclo euleriano ma perché ma perché per definizione un ciclo euleriano usa tutti gli archi e quindi il peso sarà sempre uguale alla somma di tutti gli archi e passa da tutti i vertici sempre lo stesso numero di volte quindi non posso neanche minimizzare il peso dei vertici perché da ogni vertice verrà esattamente preso lo stesso numero di volte pari alla metà del suo grado quindi qua anche se il grafo fosse pesato tutti i cicli euleriani se esistono se esistono ne esistono tantissimi hanno tutti lo stesso peso oltre che la stessa lunghezza che è pari al numero di archi anche lo stesso peso che è pari alla somma di tutti gli archi quindi questo è un problema un po' particolare un po' infrequente nel senso che capita raramente tranne quando si va a spasso per le città se si vogliono tracciare i ponti capita raramente di aver bisogno di questo tipo di soluzione però come abbiamo visto per fortuna è stato risolto in modo molto efficiente complicità lineare nel numero di archi punto il problema invece è molto diverso per i cicli hamiltoniani e questa è una curiosità nel senso che cambia pochissimo dici quasi ad occhio sembrerebbe che passare per tutti gli archi sia più complesso più difficile che non toccare tutti i vertici una volta sola sembra che l'arco sia una cosa più complicata in realtà quello che si vede è che appunto il ciclo euleriano che tocca tutti gli archi ha una complessità lineare il ciclo hamiltoniano che tocca tutti i vertici invece ha una complessità esponenziale non esistono soluzioni efficienti note per i problemi del TSP scusate TSP è una applicazione pratica del ciclo hamiltoniani cosiddetto il problema del commesso viaggiatore cioè l'idea è che c'è un commesso viaggiatore che deve toccare nella sua gita una certa una sua giornata di lavoro una certa serie di città e ovviamente tornare al punto di partenza perché poverino non lo abbandoniamo in mezzo al deserto e deve fare trovare il percorso che minimizzi vuoi il tempo vuoi il carburante necessario per fare questo questo giro quindi è un problema che ha applicazioni pratiche ovunque ovunque ci sia da gestire un problema di logistica c'è da ottimizzare la lunghezza di un percorso chiuso che deve che ha certi vincoli nel senso che deve toccare certi punti quindi a differenza del grafo leureano in cui non ci sono quasi applicazioni pratiche qua ce ne sono a bizzeffe ma la cattiveria della matematica salta fuori sempre non esistono per questo problema che è estremamente irrilevante in campo logistico non esistono soluzioni note efficienti ed esatte si sa risolvere in modo approssimato si sa risolvere in modo non efficiente ma efficiente ed esatto invece non ci è dato di avere non esiste ancora quindi noi possiamo non possiamo fare altro che ragionare sulla formulazione del problema che ci dice che non ci propone un algoritmo specifico ma ci dice che quasi sempre la soluzione deve passare attraverso il backtracking cioè algoritmi di ricerca che provino varie soluzioni cercando di farlo in modo più efficiente possibile e poi ogni volta che trovano un cammino facciano backtracking e vanno a cercare alternative diverse e noi sappiamo che questo tipo di algoritmi in questo caso tende ad avere una complessità di tipo esponenziale perché devo andare a valutare tutte le possibili permutazioni dell'ordine con cui visito i vertici questo ammesso che sia per diciamo così sia per trovare se esiste un cammino un ciclo un cammino chiuso Hamiltoniano e devo provare tutte le varie strade perché se mi trovo una strada chiusa magari non era giusto passare lì era meglio fare un ciclo diverso allora troverò una strada non più chiusa oppure quindi già questo è un problema che ha una complessità esponenziale dopodiché ammesso di riuscire a trovare un ciclo Hamiltoniano ammesso che ne esista più di uno trovare quello minimo è ovviamente ancora più difficile che riusciva a trovarne uno solo non esistono algoritmi esatti e infatti anche all'interno della libreria J.Graph-T gli algoritmi uso il plurale e vi spiego per un attimo perché per la ricerca degli algoritmi dei cicli Hamiltoniani non sono in una classe ma sono dichiarati come interfaccia vediamo questa leggera differenza per il ciclo euleriano abbiamo una classe che si chiama Heizer-Holter ciclo euleriano che era dentro il package alg.cycle quindi dentro alg ci sono tutti i vari tipi di algoritmi c'è una sottopackage che si chiama cycle lì dentro ci sono gli algoritmi per i cicli di cui noi abbiamo costato attenzione su questo per la ricerca dei cicli euleriani poi ci sono altri tipi di cicli o altri tipi di algoritmi che hanno a che vedere con i cicli di cui però non ci siamo occupati per quanto allora uno si aspetterebbe che dentro la classe alg.cycle di trovare anche l'algoritmo per il problema della ricerca del ciclo hamiltoniano così non è il ciclo hamiltoniano è implementato con diversi algoritmi possibili tutti approssimati che implementano tutti una sola interfaccia che questa interfaccia è chiamata Hamiltonian Cycle algorithm è dentro alg.interfaces non è dentro cycles è una cosa un po' strana ti dice guarda visto che non esiste un algoritmo per risolverti l'algoritmo per trovare i cicli hamiltoniani perché non l'abbiamo trovato perché non può esistere è inutile che ti implementi una classe che poi non sarà mai perfetta allora crea un'interfaccia per cui tu ti puoi implementare i tuoi algoritmi approssimati nel modo che ti piace nel modo che ti serve che siamo compatibili con le tue esigenze e io ti fornisco già un po' di implementazioni che sono tutte ovviamente approssimate e infatti questa interfaccia se andiamo a vedere la documentazione ha una certa serie di implementazioni possibili quasi tutte vedete nel nome qui c'è scritto approssimato qui c'è scritto euristico qui c'è scritto euristico qui c'è scritto euristico eccetera eccetera algo in base non lo guardiamo perché la classe astrata da cui gli altri sono derivati un ciclo casuale eccetera eccetera tutti questi algoritmi sono tutti approssimati molti di questi lavorano su grafi che abbiano solamente certe proprietà specifiche quindi non lavorano in generale su tutti i possibili tipi di grafi ma lavorano solamente se i grafi hanno certe proprietà particolari e quindi magari ne troviamo uno che ci serve che ci fa comodo ad esempio noi abbiamo questi algoritmi che lavorano che sono approssimati questi tre non ci garantiscono una soluzione esatta ci garantiscono un ciclo hamiltoniano con una buona lunghezza che secondo loro dal punto di vista approssimativo è un po' meglio di prenderlo a caso non ti dicono se è minimo non ti dicono se è un epsilon peggio del minimo e ti dicono facciamo del nostro meglio secondo un certo tipo di auristiche oppure ci sono degli altri algoritmi come questo che invece mi danno una soluzione esatta ma sotto una serie di condizioni se andate a leggere la documentazione di questo algoritmo e dici guarda che il grafo deve avere questa proprietà questa proprietà questa proprietà e così via allora l'algoritmo riesce a sfruttare le proprietà del grafo quindi se siamo così fortunati di avere quelle proprietà allora vale questo algoritmo oppure c'è questo che effettivamente è un algoritmo completo e mi dà la soluzione del problema del TSP su tutti i grafi ma poveretto la complessità che abbiamo è la sopra è due alla n quindi qualcosa dobbiamo cedere o accettiamo che la complessità esploda o accettiamo che non possa lavorare su tutti i tipi di grafi ma solo alcuni ben addomesticati oppure ci accontentiamo che la soluzione sia una costituzione approssimata quale delle tre cose cedere e lo dipenderanno dall'applicazione quindi non possiamo decidere in generale per questo il curatore della libreria JGraftT ci hanno dato una famiglia di algoritmi tra cui scegliere ci sono tra questi ad esempio vi faccio solo un esempio dell'algoritmo che si chiama To Approximal Metric TSP To Approximate e dice guarda io non so quanto sarà il cammino il ciclo chiuso miltoniano migliore non so quale sarà l'ottimo io però ti so dire ti so fornire in uscita un grafo un cammino un ciclo che abbia un peso che al massimo è il doppio di quell'ottimale e questo e qui dici io magari il ciclo ottimale ha lunghezza 120 e beh io ti restruisco uno che ha lunghezza 200 io ti garantisco che ciò che ti restruisco non è non è peggio del doppio dell'ottimo tanto l'ottimo non lo sai trovare quindi ti accontenti del doppio questo lo si fa facendo riferimento a un'altra struttura dati un altro algoritmo che viene chiamato spending tree di peso minimo adesso quindi non abbiamo studiato gli spending tree e quindi non entriamo nel dettaglio su questo ma essenzialmente si basa sull'attraversamento in profondità di un albero che è stato costruito cercando di usare gli archi di peso minimo in un certo senso e questo ovviamente è implementato da two approximate metrics che è ovviamente citato qua dentro tu approximate tsp quindi su qualunque grafo lui è in grado di darti un cammino che non è quello ottimo di sicuro ma non è peggio del doppio di quello ottimo voi potete dire ci basta non ci basta avere un'approssimazione del 50% però questo è ciò che ti dà questo algoritmo invece di Christophides lavora sui tre mezzi cioè ti dà un'approssimazione che è sbagliata al massimo di tre mezzi 1.5 volte anziché due volte quindi è meglio però magari ha delle condizioni ulteriori oppure un tempo di esecuzione maggiore questo è il tipico caso in cui i libri diciamo di algoritmi hanno mille soluzioni e in questo caso noi dovremmo andarci a scegliere quella che è più adatta in termini di precisione barra complessità rispetto alle nostre esigenze e capire anche se il grafo che abbiamo a che fare rispetta magari certe condizioni aggiuntive che possono permettere l'utilizzo di algoritmi più furbi e questi ovviamente sono ben documentati nella documentazione della classi perché se voi prendete che ne so prendiamo questo qua di Palmer dice va bene adesso qui entriamo nella matematica quindi non vogliamo perderci l'algoritmo di partner va bene applicabile ai grafi che soddisfino la condizione di OR e questo OR che è un signore ha dato una condizione sufficiente affinché il grafo possesse amiltoniano e vabbè poi questa proprietà di OR si basa essenzialmente sulla somma dei gradi delle coppie di alertici e cose di questo genere quindi una proprietà che tra l'altro si può verificare attraverso questa as OR property che c'è già però dipende se il nostro grafo ce l'ha se ce l'ha allora l'algoritmo di Palmer è applicabile se invece non ha questa proprietà questo algoritmo non lo posso usare appunto e basta è idem sugli altri ad esempio questo dei tre mezzi possiamo andare a vedere se si applica tutti i grafi l'approssimazione dei tre mezzi dell'algoritmo del TSP metrico ecometrico vuol dire che il grafo deve essere un grafo metrico vuol dire che i pesi degli archi devono soddisfare la disuguaglianza triangolare quindi deve essere sempre vero che un arco dati due vertici AB dal peso dell'arco AB è sempre minore della somma di AC più CB la classica disuguaglianza triangolare in cui un lato è minore della somma di altri due non tutti i grafi hanno questa proprietà dipende se il peso dell'arco rappresenta una distanza geometrica sì se il peso dell'arco rappresenta qualche altra cosa non è detto che questa proprietà sia valida e quindi non è detto che questo algoritmo dell'approssimazione dei tre mezzi sia applicabile a questo grafo e in ogni caso ha una complessità V al cubo per E in un grafo denso V al cubo per E è V alla quinta perché V alla quinta è sempre meglio che 2 alla V però è comunque un certo tipo di complessità mentre invece il nostro algoritmo approssimato a due volte ha una complessità come vediamo qua sotto molto minore anche se lui di nuovo fa l'ipotesi che il grafo sia un grafo metrico quindi lo vedete qua nel TSP metrico la distanza tra città soddisfa l'inuguaglianza la disuguaglianza triangolare quindi non tutti i vertici non tutti i grafi soddisfano questo però in questo caso poverino lui V quadro per log V è decisamente più efficiente rispetto agli altri anche se ci dà un risultato decisamente peggiore può darci un risultato decisamente peggiore perché magari è così fortunato che becca l'ottimo ma non te lo può garantire mentre invece andiamo a vedere l'altro estremo quello di Haltkarp che è un algoritmo che ha una complessità pari a 2 alla V per V in termini di memoria e 2 alla V per V al quadrato in termini di tempo occupa molta memoria perché essendo basato qui ci dice sulla programmazione dinamica la programmazione dinamica è un tipo di programmazione in cui mentre esplori delle soluzioni ti salvi una tabella con tutte le soluzioni che hai già precalcolato per evitare di doverle calcolare una seconda volta se per caso trovassi dei sottoproblemi simili a quelli di partezza quindi in qualche modo cerco di risparmiare un po' di tempo usando dello spazio per salvare soluzioni parziali di cui ho già scoperto la soluzione senza entrare ovviamente nel dettaglio lui risponde vedete che non c'è menzione qua del fatto che il grafo debba essere metrico e quindi lavora su qualunque tipo di grafo pesato orientato o meno però ovviamente ti dà la soluzione ottima ma ovviamente la paghi con questo bel esponenziale che ormai abbiamo già capito che su grafi di certe dimensioni ci dice che i tempi passano dall'ordine dei secondi all'ordine dei mesi o degli anni e che quindi di fatto ci limita la massima dimensione dei problemi a cui sono applicabili quindi due problemi molto simili all'inizio della lezione mi hanno detto vabbè cerchiamo un grafo scusate cerchiamo un cammino che mi tocchi tutti i vertici e l'altro mi cerchiamo un cammino che mi trocca tutti gli archi sembrano molto simili hanno invece complessità algoritmiche totalmente diverse questo se vogliamo ci fa diciamo così rimanere come messaggio uno non diamo mai per scontato quale sia la complessità o l'esistenza di un algoritmo magari semplice a un problema che invece ci sembra strano ci sembra quasi risolubile magari qualcuno l'ha studiato e ha trovato una soluzione efficace oppure qualcuno l'ha studiato e non ha trovato soluzioni efficaci ma a quel punto magari ha trovato molte soluzioni approssimate che noi possiamo riusare piuttosto di buttare tutto a mare e mettersi in un angolino piangere e cerchiamo di usare le approssimazioni che altri hanno trovato l'altra cosa l'altro messaggio che ci portiamo a casa è nel caso nei casi reali in cui dovessimo affrontare risolvere un problema TSP andiamo un po' a vedere questo ventaglio di classi quali sono le condizioni di applicabilità e quali sono diciamo così i tipi di risultati promessi e usiamo pure una soluzione approssimata nessuno ci potrà dire ah guarda tu hai sbagliato perché io voglio la soluzione esatta perché la soluzione esatta a meno di accettare una complessità esponenziale invece non la sappiamo calcolare come dicevo questi argomenti tranne magari alcune volte la ricerca del ciclo Hamiltoniano difficilmente li troviamo poi alla fine dei nostri esercizi proprio perché la soluzione esatta non la sappiamo calcolare quindi addomestichiamo un po' gli esercizi in modo da poter essere in grado di trovare le soluzioni degli esercizi che ci costruiamo ma nei problemi reali in realtà questi saltano fuori molto spesso come dicevamo va bene questo chiude l'argomento sui grafi con questo ultimo capitoletto un pochino teorico e da adesso in avanti come già promesso ci concentreremo sugli esercizi prima sulle simulazioni e poi sui temi di esame passati arrivederci grazie